Vuoi vederti con un colore nuovo in soli 30 secondi? Vuoi provare un cambiamento del colore ma senza colorare i tuoi capelli? Ebbene sì, la tecnologia che abbiamo sposato ti permette di vederti in tempo reale con qualsiasi colore tu voglia, come se fosse un abito o una scarpa. Immagina finalmente vederti con una nuanza moda, tal cui il biondo, il modano, ramata, nera, e che dire, perché non con un rosa pastello? Tutto questo senza intervenire sui tuoi capelli. Non perderti questa opportunità, ti aspetto, ciao!